Blitz dei carabinieri in un camper posteggiato al lungomare di Marina di Palma di Montechiaro. Due arresti per detenzione e spaccio di droga. Un supermercato ambulante, un fast food della droga, un take away della marijuana. Entri, paghi, fumi e poi, quando sei stupefatto, un tuffo a mare nelle acque delle Gattopardo a Marina di Palma di Montechiaro. Perché un camper è sempre posteggiato lì al lungomare Todaro? Sarà mica un chiosco per la vendita di bibite e genati? No! Sarà mica una cabina di fortuna dove indossare il costume per il bagno? No! Sarà mica il tetto di un vagabondo errante, senza meta, folgorato dai libri di avventure? No! E allora che cosa sarà mai? Ecco le domande che hanno imperversato tra i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro. Poi, dalla riflessione all'azione, il blitz, i militari sono piombati alla porta della roulotte. Aprite, siamo i carabinieri! Dentro il camper, nonostante il caldo e la temperatura che solletica i 40 gradi, è raggelato il sangue a loro due, i fratelli Allegro. Adesso, Vincenzo Allegro, 21 anni, e Cristian Allegro, 18 anni, sono in carcere al Petrusa di Agrigento. Quale allegria! Sì, perché dentro il camper i carabinieri hanno scoperto 45 dosi di marijuana da un grammo ciascuna, pronte per essere spacciate. Lo scatto delle manette è stato fulminante. Vincenzo e Cristian Allegro, braccianti agricoli incensurati, non hanno valbettato nemmeno un perché. Poi, così come scritto nell'emmanuale dell'ottimo carabiniere, è stata perquisita la casa dei due fratelli Allegro. Altre sorprese! Sette piante di canapa indiana ed una pistola a salve, senza il tappo rosso.